ciao ragazze e ragazze un location un po insolita volevo solo mostrarvi due cosine che a me sono piaciute tantissimo allora purtroppo il tutorial non riesco a farlo quindi vi mostro quello che ho acquistato e il trucco come lo resta di technic a 2 euro 99 2 euro non intano da primo comunque tecniche la trovate guardate un po che belli ho eseguito questo make up che mi piace parecchio e utilizzato questo qua che è veramente bello e poi sono ultrascriventi questo quando ho utilizzato tutto qui nel bordo con un pochino di questo e di questo anche portato qua poi ho preso questo che è un grigio metallizzato e l'ho applicato qua poi ho preso un pochino di questo e questo insieme tamponato proprio perché è ultra scrivente appena lo tocchi applicato qui poi ho preso questo qui che super e l'ho messo qui e come punto luce qui l'illuminante solito questa palette secondo me merita tantissima tantissimo e la mostro non so se si vede spesso per una pressa sprint go comunque questi sono i colori bellissima è bella invernale proprio per adesso è perfetta poi in questo brand w7 lasciatemelo dire come vuoi ho preso questo bronzer a un euro 99 pochissimo e sono stra belli e non l'ho utilizzato oggi speriamo che riesco a prenderlo non l'ho ancora utilizzato di fatti c'è su ancora la pellicola che guardate che colorazioni bellissime veramente molto meglio ce n'erano guardate ce n'erano altre ma vedete come si vede certo non va con le dita ma di una morbida è burroso non va messo con la con le dita ma siccome sono un po di corsa ma volevo proprio mostrarvi guardate che meraviglia a quella cifra aspettate qualche dita libera cioè parliamone questo quad di illuminante e bronzer veramente veramente poi guardate non è testato sugli animali è stratosferico w7 e la cifra è veramente irrisoria di solito solo fantastic su anche amazon volte non so cercate voi mettete bronzer w7 e crescono subito code magari e questo rossetto che ho riesumato da un bel po che avevo è molto glitterato la profumazione buonissima è davvero molto glitterato a chi piace è bellissimo io l'avevo preso l'anno scorso sicuro da primor il brand aspettate se riesco a dirvelo si chiama glitter lipstick ma il brand è pinci pinidual pinidua 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 e io non so non l'ho più visti però vabbè magari sul loro sito non lo so sinceramente non lo so ed penso che non si trovi però io più che dirvelo non so cosa facci non so dell'anno scorso appena aperto eo primor quindi e come matita utilizzato la 71 li leggo dalla palma che questo colore freddo ma bello ecco questo è tutto quello che volevo mostrarvi questa con la nina e quella una delle tante che mi ha preso mia sorella natale la sto utilizzando è lunga la sto utilizzando tantissimo perché si presta bene con tutti i con tutti i look tutte le maglie così come volete chiamarle si può fare più più corta più lunga e nulla questo qua penso che l'abbia preso da shilam shen shen non so dirvi perché era il regalo di natale quindi pur di tanto non so dirvi niente io vi saluto e che dire mi mando un bacione ciao Ciao!